Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo e invisibile, che bello che sarei e che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e poi giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche i cui russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore, due ore al massimo, poi sulla testa vi piscerei. Sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche. I missili, i missili, se io fossi un angelo, non starei mai nelle processioni. Qui nelle scatole dei presepi, sarei seduto fumando un ammalboro. Al dolce fresco delle siepi, se fossi un angelo, parlerei con Dio. Gli obbedirei amandolo a modo mio, gli parlerei a modo mio. E gli direi, cosa vuoi tu da me? Gli potenti che maschi al soli, e tu cosa fai? Mi perdoni. Ma allora sbagli anche tu, ma poi non parlerei più. Un angelo, non sarei più un angelo, se con un calcio mi buttano giù. Al massimo sarei un diavolo, e francamente questo non mi va. Ma poi l'inferno cos'è? A parte il caldo che fa, non è poi diverso da qui. Perché io sento che, son sicuro che, io so che gli angeli sono milioni di milioni. Che non li vedi nei cieli, ma tra gli uomini sono i più poveri e i più soli. Quelli presi fra le reti, e se tra gli uomini nascesse ancora Dio. Io gli obbedirei amandolo a modo mio, a modo mio. Io gli obbedirei amandolo. voglio augurare la buona Pasqua una Pasqua in una maniera diversa dal solito nel mio modo di fare penso che questa canzone sia quella giusta per questo periodo speriamo che il mondo tutto il mondo intero si rinsadisca e lo faccia in fretta veramente è una speranza che tutto passi al più presto che ritorni il buon senso in tutto il mondo buona Pasqua buona Pasqua a tutti ciao amici grazie